Premesso che mi piace molto la fotografia, avete scelto una bella fotografia, complimenti, me la farò dare da voi, mi sembra molto operativa, molto adeguata al personaggio. Beh, diciamo da un certo punto di vista sono contento del fatto che siamo sempre sopra il 50, ricordiamoci che sono stato eletto al primo turno con il 56%, quindi siamo lì. C'è certamente un dispiacere nel vedere che potremmo essere molto di più, ma io considero il fatto che abbiamo la città piena di cantieri, considero il fatto che stiamo lavorando su tante cose e tanti progetti sono anche un po' controversi, per cui è logico che ci sia un fattore ovviamente in diminuzione dovuto a queste cose. Sono certo che quando i cantieri saranno terminati e tutti potranno godere delle nuove opere infrastrutturali, la situazione migliorerà parecchio. È molto netto però il giudizio su Bucci in generale perché stupisce o quantomeno è significativo il fatto che solo il 2% non abbia un'idea, no? Diciamo che sostanzialmente tutti hanno risposto in un modo o nell'altro. Non vorrei essere considerato divisivo, però insomma voglio dire, diciamo che le cose noi le diciamo chiare, noi siamo presenti e le diciamo chiare. Poi possono piacere o non piacere, ognuno è libero di pensarla come vuole. Io però ho preso un impegno con i cittadini genovesi, non è un però, io ho preso un impegno con i cittadini genovesi per un piano, diciamo un piano operativo, delle proposte concrete che abbiamo fatto qua al tempo delle elezioni e queste le voglio portare a termine. E facendo così io penso di fare veramente il mio lavoro. Ci sono alcuni topi burocratici in questi giorni, poi se volete parlarne ne possiamo anche parlare, però li risolveremo. Certamente sono dei rallentamenti, però abbiamo fatto anche altre cose che accelerano, quindi alla fine il bilancio tra i rallentamenti e le accelerazioni è positivo e possiamo confermare che entro i prossimi tre anni Genova avrà tante nuove infrastrutture. Ne parleremo nel corso della trasmissione ovviamente, Sindaco, le faccio vedere subito il cartello invece dedicato al lavoro fatto da Giovanni Totti in questi anni alla presidenza di Regione Liguria. Eccolo qua, sempre la domanda è sempre la stessa, qual è il suo giudizio su come Giovanni Totti ha amministrato la Liguria in questi anni? Positivo il 51%, negativo il 46%, non sa solo il 3%. Così a caldo un giudizio. Beh, io guardando quello che è stato fatto negli ultimi, diciamo nei 9 anni di Giovanni Totti e della sua giunta, io ho visto parecchie cose, la Liguria è cambiata, senza dubbio. Quindi non c'è da stupirsi se c'è un giudizio positivo. Questo a prescindere dall'inchiesta, su cui come sapete io non ho mai commentato le inchieste e continuerò a non farle, soprattutto in questo periodo. Quindi lasciamo un attimo da parte questo discorso, parliamo invece dei risultati fatti in questi 9 anni e si vedono i genovesi e i Liguri se ne sono accordi, questa è una cosa positiva. Però non si può negare che, tornando a non parlare dell'inchiesta nel senso pratico del termine, però il processo mediatico è in corso. Peraltro un processo mediatico nel quale non c'è spazio per le difese, c'è sostanzialmente quasi sempre solo spazio per le accuse, molto circostanziate, spesso spettacolarizzate. Io mi aspettavo che tutta questa operazione nuocesse molto di più a Giovanni Totti, invece evidentemente no. Non lo so, non sono esperto per poter dire quello che è successo, succederà a Giovanni. Io so solo che nel mio caso, ad esempio, io ho visto il mio nome sui giornali tutti i giorni per parecchie cose e va bene, questo fa parte del gioco. Siamo persone pubbliche, per cui è giusto che ci siano persone che criticano e persone che sono d'accordo. Certamente ho reagito un paio di volte, e reagirò domani in Consiglio Comunale, per alcune cose che sono state pubblicate che assolutamente non sono vere. Per esempio? Per esempio ho reagito sul fatto dell'accusa che è ripassata su qualche giornale, sul fatto che abbiamo utilizzato i soldi del Ponte Morandi per il riempimento della calda consente, l'abbiamo dimostrato in Consiglio Comunale con le delibere, che non era vero. Domani mi chiedono la stessa cosa per quanto riguarda Chiaravagna e dirò chiaro e tondo tutta la storia di Chiaravagna e il fatto che la struttura commissariale non c'entra niente con tutta la parte di Chiaravagna. che riguarda Chiaravagna è lungo, quello che abbiamo messo a posto è un chilometro e mezzo, quindi voglio dire che è se lunga e 160 metri. Ci sono altre cose, visto che siamo in argomento, che le hanno dato passione. Beh no, adesso ho detto che non ne vogliamo parlare, quindi non ne parliamo. Va bene, senta le faccio vedere un altro cartello, che è quello riferito al sondaggio che abbiamo fatto appunto, chiesto ovviamente all'Istituto Tecne di farlo nella regione Liguria e abbiamo chiesto ai Liguri quali partiti vorrebbero nella grande coalizione del centro-destra. Eccolo qua, Oltre Fratelli d'Italia e Forza Italia al 100%, la Lega al 95%, l'Istabucci 82%. Lei che si è sempre detto non sono un politico, sono un uomo della società civile prestato a questo ruolo, in effetti però gli elettori del centro-destra la identificano come un uomo dei loro, che deve far parte di questa coalizione. Non so dove mi volete portare. A nessuna parte. Cercherò di rimanere con i piedi per terra, ovvero sia, io ho un programma, una visione di una città è un programma relativo alla visione e alcune cose da fare. I cittadini genovesi sono contenti di questo, perlomeno una certa percentuale e quindi questo vuol dire che loro apprezzano il fatto che ci siano persone che si tirano sulle maniche tutti i giorni e cercano di mettere in pratica un programma che è stato approvato dai genovesi. Questo non so se è politica, se non è politica, chiamatelo un po' voi come volete. Io però vi dico che è questo il messaggio che bisogna dare alla gente. Più che tante parole contano i fatti. I signori del no sono destinati ad avere una brutta fine nella nostra città, perché la nostra città non è la città del no. Che se ne dica, lo so che se ne dice parecchio di questo, mani in mani e così via, ma non è così. I genovesi amano il fare, amano le cose, amano i fatti e quindi chi dimostra con i fatti che certe cose si possono fare ottiene gradimento. Però il fatto che l'82% degli intervistati in qualche modo la comunino, comunque la vogliano addirittura, insomma, lei e la sua lista, i suoi uomini nella coalizione centrodestra, lei lo vede solo per il modo con cui lei ha lavorato e lavora? O solo per una vicinanza, per esempio, che è una via la quale ovviamente non è stato orgoglioso con Giovanni Totti? Nel senso, questo va comunque detto che il campione è grosso. Io lo vedo per i fatti, per quello che abbiamo fatto in questi sette anni e quello che vogliamo fare nei prossimi tre. E non vorrei dimenticare, ricordiamocelo bene, che la lista di cui parliamo non è solo sottoscritto. Ci sono tante altre persone, ci sono assessori che stanno facendo un grandissimo lavoro, da Pietro Picciocchi a Campola e così via, a Lorenza Rosso e così via. Ci sono tante persone che lavorano nei municipi, ci sono tante persone che collaborano con questa lista e tutte queste persone sono in grado di fare di avere un peso nella società civile di Genova. Forse il fatto che una parte della classe dirigente significativa, leggi il presidente di regione, siano stati messi ai box da questa inchiesta, spinge gli elettori del centrodestra a vederla come l'uomo che può tenere insieme, ma soprattutto portare a termine, perché adesso magari ci entriamo, però il vero rischio, la grande paura che non è mai stata nascosta, direi nemmeno da lei, è quella che questa situazione possa portare ad un rallentamento grave fino addirittura al fallimento di alcune opere. Al fallimento non direi, certamente il rallentamento è un rischio, ho già visto qualche rallentamento, di cui non sono contento, l'ho già detto, e stiamo lavorando tutti assieme affinché questo non succeda, per cui il nostro obiettivo è quello di fare sì che la regione non rallenti, ma con piacere ho visto che è un commento diffuso tra tutti, cioè tutti da Confindustria, l'associazione di categoria, Confcommercio, tutti parlano del fatto che non vogliamo che la nostra regione e il nostro comune di Genova rallentino, per cui l'impegno che noi abbiamo per far sì che si continui ad andare avanti, magari con anche maggior velocità, per compensare alcuni rallentamenti, è un impegno diffuso, è un impegno che tutti pensano sia la cosa giusta da fare, per cui sono contento di questo e mi sento vicino alle persone. Siamo entrati in un tema che può essere centrale nella trasmissione, le faccio vedere un altro cartello, uno dei sondaggi che abbiamo fatto fare è quello che abbiamo chiesto ai Liguri, se l'inchiesta è in corso in qualche modo possa o sta già danno in grado l'economia del territorio, che l'avrà già visto nei giorni scorsi, immagino, eccolo qua, il 64% degli intervistati, insomma, pensa che l'economia del territorio possa avere un danno. Io penso che sia il nostro dovere lavorare affinché questo non succeda, io penso che noi amministratori abbiamo non solo il diritto, ma il dovere di lavorare per proteggere la nostra regione, la città da tutte queste cose e far sì che si possa continuare ad andare avanti con i nostri programmi, non solo è un peccato, ma è, come si dice, sarebbe da vergognarsi se non riuscissimo a portare in fondo queste cose, nei confronti delle prossime generazioni, stiamo lavorando a un progetto straordinario, incredibile, con una serie di finanziamenti che Genova non ha mai visto e stiamo facendo cose che faranno la Genova dei prossimi 20-25 anni. Se perdiamo quest'occasione non arriverà più, quindi non possiamo assolutamente rallentare. Il console della CUNVE, proprio per usare le sue parole, nei giorni scorsi, ospite proprio di Primo Canale, ci ha detto, ha riferito ovviamente a questo cartello che è alle sue spalle, parlando riferito al porto soprattutto, dice prima stavamo andando come se fosse un treno che andava ad alta velocità, ora in questo momento è un locale, è diventato, e si riferiva soprattutto all'autorità del sistema portuale che in qualche modo ovviamente governa il porto, dice le navi arrivano, attraccano, il lavoro c'è, tutto va per il modo giusto, però è normale che da due mesi in qualche modo più ci siano. Se l'autorità portuale è un po' più lenta faremo in modo di accelerare tutto il sistema collaborando tutti quanti assieme con tutte le amministrazioni. Ricordiamoci un attimo, chiedo scusa, ma chi dice che sono preoccupato dovrebbe essere il primo a tirarsi sulle maniche e invece che essere preoccupato a darsi da fare affinché non si rallenti. Quindi quando sento tutte queste persone che dicono sono preoccupato, capisco che ci può essere preoccupazione, anche io sono preoccupato ma nel termine etimologico della parola, preoccupato, cioè mi sto occupando in anticipo per risolvere un problema, è una preoccupazione che deve essere positiva, non negativa, preoccuparsi non vuol dire fermarsi, preoccuparsi vuol dire accelerare ancora di più per raggiungere i risultati. Questo è quello che io chiedo ai genovesi e ai liguri e sono certo che ce la faremo. Dallo stesso console benvenuti, le faccio sentire una domanda che lui ha fatto in generale, vediamo così entriamo anche nel mondo delle grandi opere che poi sarà il tema della trasmissione. C'è ancora questa straordinaria opportunità, gli investimenti, la diga, le infrastrutture, le ferrovie che in tanti convegni abbiamo attestato, non solo dichiarato ma dimostrato, ci sono i soldi, ci sono gli investimenti, è ancora in piedi, allunga i suoi tempi. Noi possiamo anche, non siamo quelli che possa aspettare 7, 8, 9 anni affinché le cose si possano realizzare, noi abbiamo bisogno di, nel mondo del nostro lavoro, del lavoro a chiamare, io parlo del mio ma comunque ci sono dentro, abbiamo bisogno di qualcosa che si possa agguantare via via o che possa darti una prospettiva, una continuità. Io la preoccupazione è questa, quindi chi la vede là fuori, la vede così, io sono anche sopra il 64% come preoccupazione. Esattamente quello che ho detto, signori, non so, penso che loro abbiano una barca, un motoscafo per andare a vedere fuori se stiamo facendo la diga o no. Mi stupisce sentirmi dire da persone del porto se c'è ancora il progetto della diga, mi stupisce molto. Niente polemica, si va avanti, gli farò una telefonata personalmente per spiegare di che progetto c'è, va avanti, va avanti bene e stiamo anticipando di 4 anni il lavoro della diga, perché questo spieghiamolo un attimo ai genovesi. Il progetto originario della diga era fare una fase A da concludere entro il 26 e una fase B dal 27 al 30. Quindi la diga in totale sarebbe stata terminata nel 2030. Noi abbiamo anticipato la fase 2 in maniera tale che fase 1 e fase 2 possono concludersi nello stesso periodo, che cioè fine 26 per uno, inizio 27 per l'altro. Se riusciamo a fare questo, noi anticipiamo la diga a Genova di 4 anni e quindi facciamo in modo che la città abbia la ricaduta economica e occupazionale 4 anni in più rispetto a quello che aveva visto. Le dice 4 anni, lo spieghiamo anche a chi a casa magari non ha seguito la questione, è perché il secondo lotto della diga a Forania deve essere finito nel 2030. Noi invece riusciamo a finire tutto entro il 26, inizio 27. Devo far partire la gara il più in fretta possibile, dobbiamo far partire la gara. Infatti stiamo lavorando con Ministro dell'Ambiente per l'ultima approvazione, per poi far partire la gara immediatamente. Quindi stiamo veramente anticipando i tempi, non ritardando. È ancora un discorso dei signori del no. Mi dispiace citare sempre questo discorso, ma oggi giorno si vede troppo questo tentativo di voler demolire quello che stiamo facendo. Fossi io all'opposizione farei esattamente il contrario. Io direi che queste opere sono importanti, sarebbe meglio farle come dico io, opposizione, quindi do un aiuto a farle e mi prendo anche i meriti. Questa è l'opposizione che conta e che serve per la città, non l'opposizione che dice no. Abbiamo bisogno dell'opposizione che dice sì, ma in un modo migliore. E quindi la città progredisce e va sempre avanti. Purtroppo in sette anni non l'ho ancora vista, ma non ho perso le speranze. Nei prossimi tre probabilmente anche l'opposizione capirà che deve migliorare e deve dare consigli, suggerimenti e progetti per costruire la città delle prossime generazioni. Abbiamo parlato della nuova diga e andiamo un po' dentro anche dei vari cantieri che sono aperti in città, per esempio Sky Metro. Purtroppo non è ancora aperto, questo è il problema. Abbiamo un problema tecnico con il Ministero e con il Consiglio Superiore che vogliamo risolvere. Il Consiglio Superiore ci chiede domande che riguardano non tanto la fattibilità tecnica e economica ma il progetto definitivo, che va bene, faremo un discorso di processo definitivo anche se in realtà la procedura dovrebbe essere sulla fattibilità tecnica e economica. Però sono cose che avremmo dovuto fare dopo l'approvazione, invece le facciamo prima della provazione e alla fine non c'è un grosso ritardo. Ma c'è certamente questo messaggio di non perfezione del progetto che lascia qualche punto di domanda, questo lo capisco perfettamente. Però Sky Metro, addirittura c'è stato un comitato che ha detto che volendo... Ecco, questa è stata una cosa positiva. In questi giorni, ieri e oggi, mi sembra di aver letto, ha suggerito di fare un tunnel sotto San Fruttuoso, sbucare a Staglieno e poi continuare con lo Sky Metro. Quindi questa... adesso non abbiamo i soldi e il progetto pronto, ma questa è un'idea che potrebbe essere un miglioramento della situazione attuale. Quindi quando arrivano delle idee che migliorano la situazione sono benvenute. Metro in generale? La Metro a fine anno, gennaio-febbraio, in questi tre mesi, avremo la fine della Metro a Palpocevera, cioè sino a Pallavicino, sino a Rivarolo, dopodiché avremo la parte di Levante a fine 25, cioè sino a Martinez e poi dopo il progetto per San Martino lo stiamo completando e parteciperemo alla prossima call del Ministero anche per il prolungamento sino a San Martino. Le faccio anche una domanda sull'aeroporto. Guarda che in totale, oggi abbiamo 7 km di metropolitana, quando abbiamo finito questi progetti ne avremo 24. Non saremo più la città con la metro più piccola d'Italia? Forse sì, però... Rimarreremo sempre questa area? No, forse no. Certamente ce l'avremo bella. Senta, aeroporto. Aeroporto? Un bel rebus quello lì. No, per me non è un rebus. Perché il rebus? Siamo contenti che ci siano azionisti interessati a entrare nell'aeroporto. Sono molto contento che il Comune di Genova ha giocato in maniera intelligente e adesso troverà un'altra occasione per entrare come azionista. Il Comune di Genova vuole entrare come azionista nell'aeroporto. Per qual è l'obiettivo? Perché lo vuole fare? Partecipare agli investimenti, alla strategia e soprattutto fare in modo che ci sia un collegamento importante col territorio. La città non può rimanere senza aeroporto. Quindi è giusto che il Comune di Genova sia parte degli azionisti dell'aeroporto. Lei non teme che essendoci un forte interesse da parte di operatori portuali quella possa essere vista più come una banchina che non come una pista? Cosa vuol dire? Che gli aerei adesso galleggiano? No, che si potrebbe trasformare. No, assolutamente no. L'aeroporto rimane l'aeroporto. Ma siete tutti in paura, ma domani siete sicuri che verrà il sole? Non so, voglio dire. Sto scherzando ovviamente. Però voglio dire, cerchiamo di essere ragionevoli, capire di per terra. Pensiamo al futuro in maniera positiva. Che differenza c'è tra uno che pensa in positivo e non che pensa in negativo? La situazione è quella che è. Uno però è contento che la vede positiva e uno invece si danno alla vita perché la vede negativa. Ma tanto la situazione è quella che è. Non so sicuramente. È meglio essere positivi, no? Lo stadio... Eh, questa è un'altra granetta che abbiamo. Ci dice qualcosa? Ho parlato con il Ministro proprio recentemente. Il Ministro vuole lo stadio. Cioè vuole Genova nel novembre? Vuole Genova. Adesso non posso dire... No, ritiriamo. Non posso dire questo. Però voglio dire che noi è contento se noi partecipiamo alla gara. Ovviamente. Alla gara delle città che devono... E dobbiamo avere lo stadio. Entro fine anno dobbiamo avere lo stadio. In genere Sampdoria, perché si può fare un'operazione verità? Perché poi sa che nel tifo, ah, tu non c'hai i soldi, l'altro non c'hai i soldi, è colpa di questa squadra, è colpa dell'altra. L'azione verità la dico molto chiara. Ho dato... Ho avuto incontri con ambe due. Ho dato a tutte e due una deadline, cioè un termine per poter presentare i progetti. Non li hanno presentati. Ho dato un ulteriore deadline, cioè ulteriori mese per presentare i progetti. Non sono stati ancora presentati. E adesso aspetti, ho detto ufficialmente, che aspetto il primo che mi presenta un progetto, o le squadre o qualcun altro, perché noi vogliamo lo stadio nuovo. Ma da quello che lei sa, di quello di cui lei ha conoscenza, Gino e Sampdoria avrebbero dovuto fare questa società, questa gnuco, che in qualche modo avrebbe messo dei capitali insieme. Comunque si avrebbero dovuto unire per essere più forti o comunque essere pronti a elaborare un nuovo progetto insieme. da quello che lei, dalle notizie che lei ha, questa gnuco sta andando avanti, è ferma. Ne so pochissimo. E sa solo che nessuno ha presentato niente. Il mio problema è che come al solito io guardo i fatti, non le idee. E i fatti sono, mi devono presentare un progetto con il progetto financing per l'acquisto o la concessione. Il primo che me lo presenta... Ecco, se lo presento io, per esempio, poi divento il gestore dello stadio e quindi Gino e Sampdoria devono poi fare i conti con me. Certo, però ci sarà una clausola che dice che tutte e due devono avere il tempo per poter giocare. Questo ovviamente. Noi non daremo mai allo stadio in concessione a nessuno che non garantisca che le due squadre abbiano lo spazio per poter fare i loro campionati. Nel caso le due società non riuscissero in qualche modo a trovare una quadra ovviamente il campo si allargherebbe da altri soggetti. Ma è già allargato. Qualcuno ha già bussato in maniera... Qualcuno ha già bussato ovviamente. E oggi lei pensa che sia più probabile questa seconda via? Non lo so, non posso dirlo perché non lo so. È deluso dalle società? Pensava perché secondo lei sono così ferme su questa cosa? Questo neanche lo so. Cioè, si dice in italiano, sì. Questo non lo so neanche. Non so neanche questo. Questa è proprio traduzione letteraria. E invece dello stato di salute, lo so che lei è un po' superparte nel punto di vista calcistico, però lo stato di salute di Genesandoria dalle sue informazioni... Pensavo che mi chiedesse il mio stato di salute. Quello poi era la domanda finale, la domanda finale ovviamente. Sembra perfetto. Non l'abbiamo fatta anche perché l'abbiamo vista talmente bene. No, no, non sono perfetto. No, non lo so. Io seguo poco sinceramente il calcio. Però è un bene della città, no? È un bene della città. Infatti i tifosi sono una parte importante della città, ma non seguo la parte sportiva o l'andamento della società. Io ho contatti con le società per quello che riguarda lo stadio in questo momento e non vedo l'ora che mi vengano fatte le offerte. Sì, c'è una domanda che... Sullo sport abbiamo però tantissimi altri sport. Oggi abbiamo presentato il Costa Rowing, il Beach Sprint, cioè l'attività, il campionato mondiale. È la prima volta che a Genova c'è un campionato mondiale sul canotaggio, ma anche su altri sport. Quindi Genova 2024 sta andando benissimo come capitale dello sport e queste altre attività andranno ancora di più a arricchire... Pensate soltanto, ci saranno i campionati di Vera Juniors, 600 barche, due persone per ogni barca, tutti i ragazzi, anche minorenni, verranno 1200 ragazzi a Genova e con le loro famiglie, con tutti... Pensate che cos'è dal punto di vista dell'indotto. L'anno prossimo gli europei di scherma? Sì, l'anno prossimo gli europei di scherma. Pensate anche solo tutta la parte congressuale, mi hanno detto, ne ho parlato proprio stamattina, è andata benissimo nei primi sei mesi. Abbiamo anche un record nei primi sei mesi a punto di vista turistico, ma non ve lo anticipo, l'assessore Bianchi sta preparando il comunicato stampa. Senta, stiamo andando verso la fine, anche se qualche minuto glielo rubiamo ancora. C'è una domanda che ancora non abbiamo fatto, o comunque una notizia che vorrebbe darci questa sera? Questa è un tentativo disperato di Matteo Angelo, quindi per favore lo aiuti in questo. Beh, più che una domanda è un appello. Capisco la situazione di difficoltà, il 52% un po' lo dice, certo è bello, un bel numero, io però vorrei di più. Capisco il fatto che abbiamo tanti cantieri in tutta la città, capisco che il cantiero provoca disagio, non puoi parcheggiare, perché già da un'altra parte ci sono dei disagi anche nel fatto che magari ci sono delle polveri, tutto sotto controllo da potenza sanitaria, se è ben chiaro, però sono disagi. E capisco che i disagi siano un peso, soprattutto se ci sono degli anziani o anche dei bambini. Non abbiamo alternative però, abbiamo detto che vogliamo fare tutte queste cose assieme per dare minor tempo ai disagi, ovvero sia per fare in fretta. Questo è uno sforzo che costa in termini di visibilità, ma alla fine sarà un grande premio per la città. Io vorrei che i genovesi questo lo sentissero e partecipassero assieme a me per i prossimi tre anni a costruire la Genova del futuro. Partecipare vuol dire tutti quanti partecipare, ovvero sia ognuno nelle proprie dimensioni. È giusto criticare, è giusto fare i comitati, è giusto tutto, va benissimo. È giusto anche in consiglio comunale fare domande che sembrano strane. Non è corretto quando questo diventa strumentale, oppure non è che è corretto, non serve alla città quando questo è strumentale. Negli ultimi periodi ho visto veramente una marea di attacchi strumentali e soprattutto basati su notizie non vere. Informiamoci, sono a disposizione per parlare con tutti, ma cerchiamo veramente di andare avanti tutti assieme, perché ci stiamo giocando il futuro dei prossimi vent'anni. L'ho già detto, ma lo ripeto, e questo futuro dei prossimi vent'anni non è merito di Bucci o dell'amministrazione, è merito di tutta Genova e come si succede in mare, su una nave, o si va tutti sugli scogli o si va tutti in porto. Non si può sopravvivere la metà. Quindi o tutti quanti collaboriamo o se non ce la facciamo è un disastro per tutta la città. Sindaco, quando io l'avevo intervistata qualche settimana fa, lei mi aveva detto all'inizio, diciamo, sempre della vicenda, dell'inchiesta, mi sono preso qualche giorno per fare una specie di esame di coscienza, per capire se i miei comportamenti fossero stati giusti e ho stabilito che fossero giusti e ho deciso di andare avanti. Che cosa... Ho detto un'altra cosa. Anche. Ho detto che io penso di aver fatto un errore e lo dirò ai magistrati nel momento in cui loro mi interrogaranno. Mi sembra che qui ci sia proprio sul banco degli imputati teorici il modo di interpretare il ruolo dell'amministratore pubblico. Cioè l'amministratore pubblico che parla col privato, che spinge per sistemare delle partite... Mi spiace, stiamo commentando le indagini, non è il caso. Lei non crede che ci sia questo rischio di snaturare il ruolo? Non commento le indagini, punto. Va bene. Stavo per avere la notizia, lo fai arrabbiare, quindi la notizia non ci ha fatto l'appello e la notizia. Manca solo la notizia. La notizia è che stamattina ho cominciato la radioterapia e quindi è andato tutto bene. Lo farò fino a 30 agosto, sono 32 sedute escluso la sabato e la domenica. Non farò più ferie ovviamente perché non posso e andiamo avanti. Il 25, cioè giovedì, sono a Roma a parlare con il dottor Caputi, il sottosegretario della Presidenza del Consiglio. Farò con il ministro Picchetto Frattin. Quindi la partita dello Skymetro? Non solo, di tutta la parte ambientale che abbiamo per la diga e per tutta la parte ambientale. sulle nostre progetti. Per le autorizzazioni? Per le autorizzazioni. Parlerò anche con il ministro Urso, quindi andrò a Roma per fare un check con tutti i ministri. Su Urso, cosa c'è? L'ILVA? C'è l'ILVA, c'è l'ILVA, c'è l'Italia, c'è l'area lì. C'è l'area, c'è l'ansaldo, ci sono tanti ansaldi che stanno andando bene in questo momento, quindi dobbiamo lavorare. Ci sono tante altre cose. Su Piaggio, parleremo anche su Piaggio, non ho informazioni recenti. Ho informazioni molto importanti invece per quello che riguarda i cavi sottomarini, c'è ancora più interesse, per cui ci aspettiamo altri cavi che arriveranno in futuro e la situazione sta veramente decollando da questo punto di vista. Quindi parleremo anche, sono in contatto anche con il discorso per la scuola, la nuova scuola della Valpolcevera, come sapete. Farò tutto un giro per vedere tutta la parte ministeriale. Ho dei collaboratori importanti, il dottor Carlo De Simone, che sapete, che vive a Roma, mi aiuta a fare tutto questo tipo di lavoro. Quindi con tutta la struttura commissariale andremo a parlare con tutti i ministri per avere le luce verdi per andare avanti. Come sta lei, ce l'ha detto, bisogna lasciarla andare. Una cosa sola. Io so che stiamo facendo una cosa completamente diversa dal passato, ovvero sia, noi abbiamo, questi genovesi lo devono sapere, scaviamo il tunnel, prendiamo ovviamente il materiale di scavo, lo prendiamo, lo portiamo in brevissimo spazio al mare, lo carichiamo su una bettolina e riempiamo i cassoni della diga. Tutto il materiale delle costruzioni sul porto serve per riempire i cassoni della diga. Facendo così noi facciamo un'economia circolare perfetta, o quasi perfetta, che è un esempio unico in Italia e che sarà nei libri di scuola del futuro. Questo evita un milione di tonnellate che vanno in pianura padana con i camion e un altro milione di tonnellate che arrivano qua. Quindi pensate cosa si risparmia dal punto di vista ambientale. Ebbene, questo discorso procedurale deve essere capito. Questo è il messaggio che voglio dare al Ministro, il messaggio che voglio dare a tutta l'Italia. Perché questo esempio di collaborazione tra vari progetti per risolvere un problema ambientale, dare un beneficio ambientale alla nostra città, è veramente una cosa importante. Ci sarebbe un delitto, aggiungo io, che questa economia circolare non funzionasse se mancasse un foglio di carta per una delle diverse operazioni. Senza pensare a 400 milioni di costi in più. Noi risparmiamo 400 milioni di soldi dei cittadini, che ci servono per fare un'altra metropolitana, magari sino a San Martino. Pensiamoci a queste cose.